Il freddo ti ha conciato un mare e avrei dovuto accorgermene L'amine è un pezzo che parla di alcune delle facce dell'insicurezza all'interno dei rapporti, intesi come rapporti con noi stessi, come con le altre persone, di come l'insicurezza e la paura molto spesso tendano a creare delle situazioni anche di fraintendimenti, di disagio, di segreti, di astio, e tutte queste alla fine non sono altro che l'espressione di paura di una o di più persone che non riescono a comunicare tra di loro. Molto spesso il problema parte, come ho sentito anche sulla mia pelle, anche da una mancata comunicazione non coerente e realistica che sia anche con il proprio io. E quindi per il primo pezzo che andavo a presentare il mio primo album ufficiale che uscirà nei prossimi mesi, la ricompensa della mangusta, volevo assolutamente essere terrena, quotidiana, sincera e cominciare a scrivere partendo da quello che avevo compreso della mia persona negli ultimi due anni. Ma se respiro ancora e la mia camera è a posto, ballo con il niente sullo sfondo... ... ... ...